Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale della mia libreria, da me, dal giubbino personalizzato dei Motoret e soprattutto da una cosa, la maglia dell'Inter numero 8 di Rodrigo Palassio. Signori, El Trenza, un giocatore che veramente, nonostante la poca fortuna dell'Inter, un giocatore che veramente ha vestito come pochi con onore e con rispetto la maglia della bene amata Nerazzura, quindi scusate, va bene. Signori, 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 allora, credo sia giunto il momento di parlare di un'arma molto famosa, di un'arma della seconda guerra mondiale molto famosa, di un'arma che è il simbolo dell'armata russa. Sì, perché parliamo del fucile, del fucile Mosin Nagant 1891-30 e del moschetto Mosin Nagant M 1938, eccoli qua, eccoli qua, i Mosin Nagant russi. La fonte, come sempre, come sempre, come sempre è armi leggere della seconda guerra mondiale di John Wicks. Il Mosin Nagant è un fucile mitico, un fucile leggendario, un fucile che ha veramente fatto la storia, è stato praticamente il fucile standard dell'esercito russo, dell'esercito zarista e dell'armata rossa, fino agli anni cinquanta inoltrati. insomma, un fucile che ha veramente servito con onore e che ha veramente, come dire, è stato tutt'uno, si può dire, con il soldato russo. Allora, la fanteria russa, ci dice Wicks, che la fanteria russa ha combattuto nel corso di tutta la seconda guerra mondiale, con uno dei più vecchi fucili usati dai paesi combattenti. Il Mosin Nagant era un progetto che datava dal 1891 e che era almeno in parte debitore per la sua meccanica alla ditta belga Nagant, che aveva prodotto anche il famoso revolver a tenuta di gas. La Nagant aveva progettato un caricatore a piastrine capace di cinque cartucce ed un sistema di alimentazione che si adattava ad un fucile adotturatore girevole scorrevole apparso sotto le direttive di un certo colonnello Mosin. L'arma che ne venne fuori risultò essere robusta, facile a fabbricarsi, relativamente semplice nel funzionamento ed adatta a molti usi. L'unica critica che le si può fare è che l'otturatore costituito da due parti era probabilmente complicato senza necessità. Il Mosin Nagant era stato prodotto in numerosissimi esemplari per l'esercito zarista, particolarmente presso gli arsenali di Tula, Sestrorek e Ijevsk, ma anche in Belgio, Francia e Svizzera, su contratti stipulati nel periodo in cui gli arsenali russi si stavano attrezzando. La produzione andò avanti almeno fino al 1945, ma molto probabilmente arrivò in Mosin Nagant, continuò ad essere prodotto presumibilmente fino quasi agli anni 50, il che è tutto dire. Allora, il modello originale del 1891 venne ripiazzato da altre versioni, la più importante dei quali fu quella del 1930, eccola qua, questa qua sopra con il cannocchiale, eccola qui, questa è il 1891-30, ok? Allora, fino al 1930 il suo calibro era noto come tre linee, intendendosi per linea la misura russa di un decimo di pollice, ovvero 2,54 mm e la distanza di tiro era regolata da un alzo graduato in Harshin, misura anch'essa russa corrispondente a circa 72 centimetri. La rivoluzione sovietica spazzo via questi rallitti medievali. Il calibro divenne di 7,62 mm e la distanza di tiro venne regolato da un alzo regolato in metri. Nessuna di queste modifiche influì sulle munizioni, che erano ancora le cartucce con risalto modello 1908, molto simili nell'aspetto e nelle prestazioni alle britanniche 0,303 pollici, quelle da 7,7 mm, e alle 30,06, 7,62, Winchester statunitensi. Però c'è da notare una cosa, notate bene qua, si dovrebbe vedere abbastanza bene, il risalto delle cartucce del Mosin Nagant è piuttosto particolare. Questo comunque è il meccanismo rustico, semplice, l'otturatore diviso in due parti, che, ahimè, è un difetto, ma indubbiamente il meccanismo di sparo rustico, semplice ed efficace del Mosin Nagant 1891-30, ok? Allora, nel 1940 avvienono in servizio anche altre versioni di quest'arma. La più importante era appunto il fucile 1891-30. Questo qui col cannocchiale, eccolo qui di nuovo con il cannocchiale, che era l'arma d'ordinanza della fanteria, lunga un metro e ventitré, pesava, come altri fucili, quasi quattro chili, tre chili e novantacinque. Il caricatore da cinque cartucce era un'evidente carenza per un'arma moderna e il tipo di munizioni utilizzati gli forniva una caratteristica particolare. Sentite un po' la sorprendente raffinatezza della soluzione tecnica. Dunque, allora, questa caratteristica particolare consisteva di un piccolo fermo situato all'interno del caricatore, che bloccava la seconda cartuccia della colonna, permettendo che la prima entrasse nel meccanismo, senza che la spinta esercitata al di sotto di essa fosse eccessiva. Tale accorgimento facilitava l'estrazione ed il movimento in avanti, impresso dall'otturatore alla prima cartuccia. Senza l'applicazione di questo fermo, la prima cartuccia sarebbe stata facilmente danneggiata nel risalto. Nessun altro paese ritenne opportuno ricorrere a misure tanto estreme per assicurare una corretta alimentazione, ma la cartuccia 1908 ha un risalto del tutto particolare. Il fermo che manteneva le cartucce in basso veniva sbloccato nel momento in cui l'otturatore si spostava in avanti, permettendo alla cartuccia seguente di essere facilmente spinta verso l'alto. Insomma, signori, eccolo qua, il meccanismo del Mosin-Nagant 1891-30. Le cartucce con risalto danno sempre dei problemi con il caricamento. I russi avevano inventato questo sistema semplicissimo ed estremamente efficace che evitava problemi nel caso, tutt'altro che infrequente, che i caricatori si sporcassero, che i caricatori si deformassero. Insomma, una soluzione semplice ed efficace per risolvere un problema non da poco. Ok? Allora, il fucile normale era lungo, goffo e scomodo da trasportare e adesso venne affiancata una versione accorciata a moschetto derivata da una prodotta nel 1910 specificatamente per i dragoni. Questo moschetto venne modernizzato nel 1930 e poi ancora nel 1938. Le due versioni erano del tutto identiche e differivano dal fucile solamente per il fatto che esse erano dotate di canne più corte. Il moschetto del 1938 non portava la baionetta ma, cosa piuttosto strana, ne venne richiesta una durante la guerra. Il progetto venne così modificato ancora una volta e il modello del 1944 venne munito di una baionetta permanentemente fissata alla bocca che si ripiegava sul lato destro quando non veniva utilizzata. Pare che questo modello abbia avuto fortuna e venne copiato da diversi paesi satelliti dopo la fine della guerra. Dalla Jugoslavia alla Cina, dalla Corea del Nord all'Albania, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, insomma, si trattava, ripeto, si trattava di un'arma semplice, di un'arma rustica, di un'arma di facile uso e di istintivo azionamento, quindi, come dire, ebbe anche un buon successo commerciale in giro per il mondo dove c'era l'influenza russa, l'influenza sovietica. Ecco qua, comunque, il modello M1938, questo più corto sotto, eccolo qui, eccolo qua, il 1938. Allora, in tutti i casi la baionetta rappresentò una caratteristica distintiva dei fucili Mosin Nagant. Sui primi modelli ne venne montata una a forma di spiedo a sezione cruciforme. Eccola qua, portata in battaglia dai soldati russi, che erano molto simili a quelle applicate sui vecchi moschetti. Tanto per peggiorare le cose, l'esercito russo non utilizzava foderi ed i soldati tenevano sempre montate le loro baionette. Questa abitudine era ormai tramontata al tempo della Seconda Guerra Mondiale, ma serve comunque ad illustrare la mentalità che indusse l'applicazione della baionetta pieghevole nel 1944. Allora, un buon numero di fucili a canna lunga venne usato per il tiro di precisione, muniti di un mirino a cannocchiale PU da 3,5 ingrandimenti. Questo era piuttosto corto e difficile da usare e la testa del tiratore si trovava in una posizione piuttosto scomoda. Insieme con questo cannocchiale fu più tardi distribuito un PE da 4 ingrandimenti che era più lungo e più vicino all'occhio del tiratore. Entrambi i tipi si applicavano ad un blocco di montaggio a coda di rondine situato sul lato sinistro del corpo. Nell'arma il manubrio dell'otturatore era girato verso il basso al fine di permettere l'utilizzazione del cannocchiale. Eccolo qua, eccolo qua, il fucile da tiratori scelti, il fucile di Zaitsev, il fucile di Rosa Yegorovna Shanina. Eccolo qua, assolutamente inconfondibili da notare. La produzione del Mosin-Nagant, come ho detto prima, probabilmente cessò nel 1945, anche se alcuni sostengono che si andò avanti con gli scarti di magazzino ad assemblare questi fucili almeno fino al 1948, se non al 1950. Ma in quel momento ne esistevano diversi milioni di esemplari che rimasero in servizio presso l'esercito sovietico fino alla metà degli anni Cinquanta, quando vennero sostituiti con le nuove sedie di fucili a caricamento automatico, le carabine SKS e ovviamente la K-47. I paesi satelliti li usarono fino a molto più tardi e cinesi e norcoreani portavano nel corso della guerra di Corea sia la versione a canna lunga che quella a moschetto. In questi ed in altri paesi essi restarono in servizio fino a che il Kalashnikov si diffuse in tutta l'area comunista fino alla fine degli anni Cinquanta. Eccolo qua, il Mosin Nagant, il fucile russo. Allora, un'arma. Allora, ripeto, io col Mosin Nagant non ci ho mai sparato, sono costretto a fare riferimento a quello che mi hanno detto alcune persone che lo hanno usato, a quello che mi hanno detto alcune persone che ci hanno sparato e a quello che ho letto in Armi leggere della Seconda Guerra Mondiale e in altri libri. Il Mosin Nagant viene descritto come un fucile semplice, rustico, indistruttibile, molto robusto, molto preciso, dall'otturatore duro ad azionarsi, ma, ripeto, pressoché indistruttibile. Insomma, teniamo presente una cosa. Il Mosin Nagant era un'arma destinata a gente tipo i siberiani, cioè, insomma, gente che prende... Allora, il Mosin Nagant era molto diffuso anche come fucile, diciamo, civile. Infatti, tenete presente, nella taiga siberiana i cacciatori usavano il Mosin Nagant. Il Mosin Nagant è stato indubbiamente il più diffuso fucile civile nell'Unione Sovietica. Per quanto che l'Unione Sovietica fosse un regime totalitario, plumbeo e, come dire, assolutamente greve, insomma, una dittatura spaventosa fu la Russia staliniana. Lo sapete fin troppo bene. Ma in luoghi dell'Unione Sovietica, come la taiga siberiana, come la Russia, come le lande della Siberia, un'arma è assolutamente indispensabile per chi in quelle terre ci vive. I cacciatori, gli stessi, come dire, gli stessi abitanti del luogo. Cioè, insomma, trovare orsi, lupi, linci e tigri, insomma, è tutt'altro che difficile nella taiga siberiana. Insomma, e poi, insomma, signori, siamo sinceri, il Mosin Nagant era un'arma concepita per essere usata in condizioni climatiche estreme dalle steppe dell'Asia, insomma, dalle steppe della Russia europea. gelide in inverno, piene di fango in primavera e autunno e assolate e polverose in estate. Insomma, vi lascio immaginare che un fucile doveva funzionare bene, un fucile doveva assolutamente funzionare sempre, perché ne andava della salute, insomma, ne andava della vita dei soldati, ne andava anche e, come dire, soprattutto della vita anche dei cacciatori. Era un fucile che doveva funzionare bene. Ripeto, veniva usato il Mosin Nagant, veniva usato anche nella vita civile da gente che veramente andava a caccia di lupi, di orsi e di tigri. Va bene che erano anche capaci di prendere e di andare ad ammazzare la tigre usando il Mosin Nagant come clava. Mi si è incippato il fucile, lo spacco sulla testa della tigre. Insomma, i siberiani sono capaci di questo e altro. Sono leggendari le storie sui siberiani. Guardatevi, io mi ricorderò sempre il video di quel tizio russo ubriaco fradicio che si trova un orso bruno nel giardino di casa e gli corre dietro con un bastone e l'orso poverino scappa. Insomma, il Mosin Nagant viene usato da gente così, ecco, in condizioni climatiche estreme e quindi deve essere un fucile rustico, un fucile resistente, un fucile che tollera ogni tipo di maltrattamento e oggettivamente il Mosin Nagant tollera ogni tipo di maltrattamento e nel caso finisci le munizioni puoi sempre usarlo per rompere la testa o a un lupo, o a un orso, o a un tedesco. Cioè, ecco, per dire, insomma, signori, uno dei fucili simbolo della seconda guerra mondiale, uno dei migliori, probabilmente, ripeto, pesante e duro da azionare, come mi è stato detto, ripeto, io devo fidarmi di quello che mi è stato detto e di quello che leggo. Tutte le relazioni che ho letto e tutte le persone che ci hanno sparato lo descrivono come un gran fucile ma con un otturatore estremamente duro da azionare perché doveva resistere ad ogni tipo di maltrattamento. precisione eccezionale, insomma, stiamo parlando del fucile dei cecchini dell'armata rossa, Vassili Zaitsev, le sue imprese sono belle.